Grazie, ne osserva molto meno. Io ringrazio le proponenti di questa delibera e le ringrazio anche per aver avuto la pazienza e la costanza di venire e presenziare e collaborare in tutte le commissioni in cui sono venute. Credo che sia importante portare avanti un discorso di beni comuni e credo che abbia bisogno questa città di una sussidiarietà con i cittadini e sia oltremodo importante non avere sempre solo il binario, non utilizzare sempre solo il binario, non avere sempre solo il paraocchi perché si rischia di fare terra bruciata su tutte le esperienze positive che ci sono in questa città e che hanno difficoltà, hanno difficoltà a mantenere una rete cittadina, hanno difficoltà a mantenere un tessuto sociale e anche in qualità di Presidente della Commissione Sociale dico questo perché abbiamo dei territori su Roma che sono particolarmente difficili e quando un cittadino ha l'intenzione, la voglia e la possibilità di prendersi cura di un bene comune, il cittadino riesce a farsi carico del bene comune, riesce a sentirsi parte della comunità, riesce a volte a dare anche un senso diverso alla propria vita. In virtù di tutto questo io voterò positivamente a questa delibera. Grazie Presidente.